Mangialardi, quello di oggi è un risultato importante, l'Anci ha avuto un ruolo decisivo in questa nuova indirizzo che è stato dato dalla Regione? Devo dire che la costruzione dei protocolli che anticipano una serie di provvedimenti che hanno poi ricadute di carattere economico sui nostri territori è stato molto importante perché il Presidente Ceriscioli ha voluto costruirli con i comuni, ovviamente l'Anci ha dato una mano in questo percorso molto serrato, soprattutto con gli assessori Bora e Pieroni, ci siamo sentiti ai loro tecnici in questi 5 giorni, anche 3 volte al giorno per affinarlo, oggi li abbiamo presentati alla Regione, e spero che nell'incontro pomeridiano che il Presidente Ceriscioli ha con il Governo possano essere accettati in modo da poter avviare un processo di velocizzazione della ripresa. Ecco, diciamo che tutto comunque sta anche nella buona educazione nel rispetto delle regole da parte dei cittadini, perché purtroppo la spalla di diamocle delle curve epidemiologiche è sempre dietro l'angolo. Sì, mi sembra che i dati marchigiani siano molto importanti sul piano della positività e quindi stiamo andando molto molto bene e quindi va un grande grazie ai cittadini che hanno lavorato e che ci hanno permesso questo risultato. Ovvio che dobbiamo tenere, dobbiamo stare dentro le regole, riapriamo le attività però vale il distanziamento sociale, vale le regole che ci siamo dati. Sto pensando per esempio per i balneari, siamo partiti da un documento molto complicato, oggi arriviamo a dire 10 metri quadrati per ogni ombrellone come pezzatura minima, vuol dire che c'è tanta possibilità, l'importante è che arriviamo al 29 di maggio ovviamente con le regole che sono condivise come abbiamo fatto con le associazioni di categorie e sono rispettate dagli imprenditori e dai cittadini. Grazie. Grazie.